Siamo arrivati alla terza settimana di questo corso. In questo primo video affronteremo il racconto delle competenze nel portfolio. Per costruire un portfolio si parte sempre dalle competenze, un termine che ormai credo sia ben familiare a tutti quanti. A seconda del momento in cui si comincia a compilarlo, il punto di vista di colei o colui che lo compila può essere definito programmatico oppure consuntivo. Nel senso dove voglio arrivare oppure dove sono arrivato. Quindi la costruzione programmatica quando all'inizio di un percorso, che nel nostro caso potrebbe cominciare dopo la prossima attestazione, esamino le competenze che un bibliotecario deve avere, analizzo sulla base degli standard formativi e professionali, analizzo quelle che mi interessano maggiormente e decido di svilupparle. Il mio interesse può essere a titolo personale oppure può essere legato al contesto lavorativo. Vale a dire che posso decidere di sviluppare determinate competenze perché mi interessano, perché sono vicino al mio sentire, al mio impegno sociale, al mio approccio alla vita, oppure può essere che per la mia posizione lavorativa attuale sia necessario che io approfondisca determinati argomenti. O ancora, aspiro a un cambiamento lavorativo e so che per renderlo possibile sarà necessario imparare cose nuove. Ad esempio, ho sentito dire che ci sarà un concorso all'università e non so nulla di come è amministrata un'università. Facciamo un caso che è totalmente inventato ma che rappresenta un possibile scenario. Ci tengo a precisare che il caso non è stato confrontato con la commissione di attestazione e che si tratta di ipotesi personali basate sui documenti che abbiamo esaminato, ma sono ipotesi abbastanza plausibili. Chiameremo la nostra bibliotecaria immaginaria Giulia. Giulia lavora in una biblioteca pubblica, si occupa di acquisti, ma l'estate scorsa ha fatto delle esperienze come educatrice con un'associazione di volontariato e si accorta che le piace molto avere a che fare con i ragazzi. Vorrebbe animare un gruppo di lettura nella propria biblioteca, ma non ha idea da che parte dovrebbe cominciare. Inoltre, ad occuparsi dei servizi al pubblico, è una sua collega. Giulia sa di poterla coinvolgere, ma sa anche che lo può fare a patto di presentarle un programma di lavoro preciso, perché di suo questa collega è molto volonterosa, ma non è così propositiva ed è un po' timorosa. Dopo aver coinvolto quella collega, Giulia conta di andare insieme a proporre l'idea alla responsabile della biblioteca. Giulia quindi comincia a tenere d'occhio tutte le occasioni formative sulla lettura e in particolare sui gruppi di lettura. Segue particolarmente l'offerta delle sezioni AIB perché è associata. Allo stesso tempo cerca di identificare altri colleghi o colleghi che in altre biblioteche italiane seguono queste iniziative e si mette in contatto con alcuni e alcune di loro. Legge di lettura e analfabetismo funzionale. Si documenta sulla gestione dei gruppi e sull'apprendimento per l'infanzia e l'adolescenza. Alla fine del percorso potrà documentare queste esperienze nel portfolio. Il nostro caso mostra un approccio programmatico. Ideale, certo, per chi utilizza il portfolio come strumento per pianificare la propria crescita. Ma non può servire nel nostro caso, dato che difficilmente i nostri associati avranno svolto questo tipo di analisi in anticipo. Ciò che si trovano a fare ora è documentare la loro crescita negli ultimi tre anni per raccontarla alla commissione di attestazione. Quindi partiremo dalle evidenze di ciò che hanno fatto, ma sempre collegando il discorso alle loro competenze. Riprendendo l'approccio consuntivo, diciamo che Giulia, sempre lei, negli ultimi tre anni ha svolto diverse attività. Ha partecipato a corsi e seminari organizzati dalla propria sezione AIB, della propria amministrazione. Ha letto articoli, ha letto libri, ha frequentato un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, legge correntemente la lista di discussione AIB-CUR e legge il giornale con particolare attenzione alla politica, alla cronaca locale. Si trova con diverse evidenze in mano, tanti attestati di fine corso o seminario, anche se pochi sono quelli che sono stati svolti con un test finale, ovvero con attestazione delle conoscenze, non delle competenze, scusate, che sono quelle che vengono attestate, magari dai corsi, come il corso a quattro fasi, nei quali le persone fanno delle cose, quindi alla fine si attesta la loro saper fare. Nel 2016 Giulia ha seguito un corso AIB con attestazione di competenze, questo sì. E quindi le 25 ore per quell'anno sono coperte con tanto di test delle competenze, quindi basta che lo inserisca. Il corso riguardava l'Information Literacy perché a Giulia, come abbiamo visto prima, il back office va un po' stretto, si interessa molto della promozione della lettura. Nel 2017, per problemi personali, invece non ha potuto frequentare nessun corso di formazione, quindi ha paura di non poter accedere all'attestazione perché non ha le 25 ore di formazione. Ha comunque lavorato, è stata coinvolta dalla sua amministrazione nella gara di appalto intercomunale per la fornitura di monografie e nell'organizzazione di una rassegna di cinema sulla violenza di genere. In entrambi i casi si è occupata principalmente dei contatti con i fornitori, ma nel caso della gara di appalto ha partecipato a un paio di riunioni con colleghi di altre amministrazioni comunali per coordinarsi. Nel 2018, Giulia è riuscita a partecipare a un corso sulla web di UI. Non le serve direttamente per fare gli acquisti, ma pensava di analizzare le raccolte della biblioteca per proporre un piano di acquisti sulla base delle aree di UI meno rappresentate. Ha seguito un corso obbligatorio perché hanno cambiato software di gestione contabile e un altro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha partecipato ad una giornata sull'informazione sanitaria ad accesso aperto e a un convegno sulle traduzioni del barone rampante. Ma queste due esperienze le ha fatte per proprio interesse personale. Così come per interesse personale ha seguito un corso online, un MOOC, di inglese. Anche se non vuole tentare lo YELTS, ma voleva solo rinfrescare le proprie conoscenze di lingua. All'interno del modulo del portfolio che è legato alla direttiva, abbiamo una griglia come questa. Questa è la griglia che Giulia utilizzerà per selezionare le 10 evidenze che andranno allegate al suo portfolio. È uno strumento per uso personale, serve a raccogliere le evidenze e a rifletterci sopra. Questa riflessione costituirà poi l'ossatura della dichiarazione autovalutativa. Le colonne competenza 1, competenza 2 e competenza 3 vanno riempite con le aree di competenze che Giulia pensa di aver raggiunto, così come descritti dagli standard formativi e professionali, cioè le aree OF e la norma UNI. Si consiglia di non disperdere in più di tre aree le evidenze, altrimenti diventa complicato costruire una dichiarazione autovalutativa. Alla luce di quelle aree, Giulia analizzerà le proprie evidenze. Innanzitutto, sceglie le competenze. Queste sono le unità di competenza come le ha delineate l'osservatorio formazione. Servono a stabilire gli obiettivi formativi, ma sono un'utile guida anche per la compilazione del portfolio, perché gli obiettivi si basano sulle competenze che deve avere il bibliotecario. Usiamo questa invece della norma UNI perché la diffusione della norma UNI è vincolata al suo acquisto, quindi a chi volesse vederla consiglio di provare con la biblioteca universitaria più vicina, alcune hanno a disposizione le norme UNI, o attraverso la propria amministrazione che potrebbe averla acquistata. Ricordiamo nuovamente che in linea AIB ha messo a disposizione una tabella di comparazione tra le norme UNI e le aree OF, ovvero dell'osservatorio formazione. Le sette aree OF comprendono amministrazione, accessioni e sviluppo delle raccolte, analisi e controllo bibliografico, conservazione e manutenzione e restauro delle raccolte, servizi al pubblico, management, biblioteca 2.0 e legislazione. Ma la descrizione delle aree scende molto più in dettaglio. Riprendendo il nostro racconto del caso, Giulia le analizza e sceglie tre competenze. Ad esempio, l'area 1 si occupa dell'amministrazione, accessione e sviluppo delle raccolte. Al punto 1.1.6 parla di appalti, proprio un compito del quale Giulia si è occupata per la prima volta nell'ultimo triennio, anche se si occupa anche di finanze, magari non si occupa di fundraising, si occupa di mostre, eccetera. Comunque, a questa competenza Giulia fa riferimento e la inserisce nel proprio schema. Il punto 1.2, accessione e sviluppo delle raccolte, riguarda ciò che Giulia fa ogni giorno da anni. Si occupa di acquisti, quindi, e si occupa di rapporti con i fornitori, ma in questo ultimo triennio sentia di aver acquisito delle nuove competenze. Quindi, sceglie anche quest'area per il proprio racconto. L'area 1.3, invece, non presenta particolare attinenza al racconto delle competenze di Giulia, perché la nostra collega non si è occupata in modo particolare di materiale antico, di materiale non librario, di ritaglie, manifesti, di risorse elettroniche, carte geografiche, di altri materiali speciali, eccetera. Quindi, quest'area non la inserisce. Invece, una competenza sulla quale Giulia si è documentata, perché vorrebbe occuparsene in futuro, come abbiamo visto, è l'Information Literacy, che rientra nell'area 4, Servizi al pubblico. L'area di attività 6, secondo la norma UNI 11.535 del 2014, comprende, fra le altre competenze, organizzare le risorse e gli strumenti a disposizione degli utenti e organizzare il servizio di consulenza per la ricerca di informazioni e di documenti in sede e a distanza. E, in questo senso, Giulia inserisce anche questa competenza nel proprio consuntivo. Vediamo che include Reference, Internet e Biblioteca, la Media Literacy. Ecco, quindi, che riguardando le proprie evidenze, ovvero la testimonianza di ciò che lei ha fatto negli ultimi tre anni, Giulia si rende conto di aver migliorato o acquisito competenze, soprattutto in queste tre aree. Quindi, gli acquisti ai fini dello sviluppo delle raccolte, i rapporti con i fornitori, la legislazione sugli acquisti e sugli appalti, l'Information Literacy, anche se ancora non l'ha messa in pratica nel luogo di lavoro, ma, indubbiamente, su questa si è documentata. Quindi, Giulia inserisce in tabella la descrizione delle competenze e quella delle attività, con le evidenze, e per ciascuna aggiunge delle note rispetto alla rilevanza che hanno avuto nello sviluppo di determinate competenze. Il corso Information Literacy Bibliotecari in azione dalle parole ai fatti non è stato rilevante per imparare a gestire le raccolte, in particolare gli acquisti. Non è stato rilevante ai fini della legislazione, ma li ha insegnato a progettare un'azione di Information Literacy di gruppo, a motivare i discenti, a facilitare l'apprendimento mentre lavorano in gruppo e ha capito molto di più sui principi dell'organizzazione dell'informazione. Dopo il corso, sa che l'Information Literacy è una competenza trasversale che è legata alle competenze di cittadinanza attiva auspicate dall'Agenda Digitale Europea per cittadini che sappiano muoversi nel mondo dell'informazione digitale, ma sa che riguarda anche l'uso dell'informazione analogica. Sappiamo che Giulia non ha utilizzato queste competenze sul luogo di lavoro, ma sappiamo anche che intende farlo in futuro, quindi integrerà ogni anno questa competenza con delle letture che però possono essere inserite solo se danno luogo ad articoli o se servono per disporre delle attività. In mancanza di evidenze, le letture non possono essere attestate. Questo risponde alla domanda di alcuni di voi. Come faccio a dimostrare che ho letto un libro o un articolo? Chiaro che non è possibile avere un certificato che lo attesti, ma se da quella lettura scaturisce l'organizzazione di un servizio o di un evento, un articolo, un post su un blog, anche personale, uno scambio di mail con dei colleghi, quella sì che è un'evidenza. Vediamo che l'attività di Giulia non è rilevante ai fini dello sviluppo di tutte e tre le competenze che lei ha scelto per il proprio racconto e non è necessario che lo sia. Nel 2017 Giulia purtroppo ha avuto dei problemi personali e non ha potuto frequentare dei corsi, ma in suo comune ha deciso di associarsi ad altri per fare degli acquisti condivisi, aprendo una gara d'appalto. Nelle riunioni con i colleghi delle altre amministrazioni che hanno costituito un gruppo di lavoro, Giulia, che già era in grado di fare gli acquisti di monografie per la propria biblioteca, si è confrontata con i colleghi di altre amministrazioni per stilare una serie di requisiti che andassero a costituire il bando e che tenessero conto sia quanto secondo la normativa è esigibile dal fornitore che delle esigenze dei partner, come ad esempio se ci deve essere o meno un servizio di alerting nel caso di opere non disponibili, quali sono i tempi di consegna, i tempi di fatturazione, di pagamento e via dicendo. Insomma, che cosa per legge esigibile, che cosa no. Tutti i partecipanti si sono documentati, ciascuno per una parte, sulla normativa e si sono scambiati le loro conoscenze in gruppo. Alla fine hanno redatto un bando per la gara che è stato poi girato all'ufficio legale per una verifica prima della pubblicazione. Le annotazioni qui riportate sono molto stringate per ragioni di spazio, ma ciascuno le può estendere nel proprio piano secondo la necessità. serviranno a costruire il racconto, perciò in questa fase l'essenziale è che le note ricordino a chi le scrive che cosa ha appreso. Siamo sempre nel 2017. La rassegna di film sulla violenza di genere ha richiesto che Giulia si informasse sulle regole relative al noleggio e alla proiezione di film in pubblica visione da parte di pubbliche amministrazioni. A testimoniarlo la corrispondenza con il distributore e l'articolo sulla rassegna uscito sulla stampa locale non scritto da Giulia ma comunque che la documenta. Lo sponsor ha versato direttamente dei fondi all'amministrazione che sono stati versati in bilancio ma Giulia prima non aveva mai incassato una donazione in denaro così ora è in grado di farlo. Allo stesso modo ha poi dovuto ordinare il rinfresco. essendosi occupata in precedenza di acquisti di materiale ha dovuto capire come si può dal punto di vista legislativo spendere dei soldi pubblici per dei beni voluttuari un altro aspetto che per lei era nuovo. Nel 2018 Giulia ha frequentato il corso sulla web Dewey e ha poi pensato di fare una ricerca a catalogo i loro libri sono classificati con la Dewey per verificare quali aree erano sottorappresentate e quali erano state coperte di meno attraverso gli acquisti degli ultimi due anni. Ha poi segnalato il dato ai bibliotecari che si occupano del reference di primo livello e ai catalogatori che così hanno potuto cercare dei nuovi titoli in quelle sezioni che ne avevano bisogno. La sua amministrazione ha acquisito un nuovo software e Giulia ha frequentato il corso di 12 ore e 3 mattinate per imparare ad usarlo. Ora è in grado di lavorare con la stessa competenza di prima ma ha aggiunto la conoscenza di un altro strumento. Inoltre Giulia ha seguito il corso obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha imparato sì delle cose e ha in mano un attestato finale che dice che ha acquisito delle conoscenze ma non ha partecipato attivamente alla stesura del piano per la sicurezza non ha cambiato qualcosa nella propria biblioteca a seguito del corso quindi per lei resta solo un attestato di conoscenze non l'acquisizione di una competenza. Allo stesso modo la giornata sull'open access con attestato di partecipazione non ha una ricaduta su ciò che lei ha fatto o fa tutti i giorni perciò se non la inserisci in un progetto o non ne fa oggetto di un articolo o di una lezione o magari la inserisce nel progetto del corso di information literacy che forse un giorno farà la sua resta una mera partecipazione. dice poco di ciò che è diventata dice dove è stata quindi può essere certo inserita tra le evidenze nel curriculum degli ultimi tre anni ma non ha valore per la costruzione della sua storia vale a dire della sua dichiarazione autovalutativa o meglio per andare a contare quelle ore di formazione che vanno documentate ogni anno. Il convegno al quale ha partecipato il barone rampante nelle sue traduzioni e il corso di inglese hanno certo allargato i suoi orizzonti ma nemmeno questi sono stati fondamentali per l'acquisizione delle sue competenze il corso di inglese peraltro ha un'attestazione non validata nei MOOC delle grandi piattaforme si può avere l'attestazione validata pagando una quota di iscrizione ma Giulia ha frequentato la versione gratuita quindi il suo attestato ha valori sì ma solo per la propria storia personale può essere inserita nel curriculum vita e l'esperienza ma a meno che lei non abbia letto letteratura professionale in inglese non le servirà ai fini del racconto delle competenze inoltre le due letture che ha fatto di Mauro e Solimine serviranno quando preparerà il progetto di Information Literacy ma al momento non ci sono evidenze a sostegno della sua lettura comunque niente le vieta di annotare in che modo siano state significative e se ha già iniziato a stilare il progetto o ha scritto qualche articolo su questo lo può allegare tra le evidenze anzi farebbe meglio a farlo visto che altrimenti tecnicamente nel 2018 lei può vantare 24 ore di preparazione ovvero l'attestazione del corso Seminari WebDui con attestazione delle conoscenze e il corso sul nuovo software di gestione contabile con anche questo attestato delle conoscenze quindi riassumendo ciò che dovreste cominciare a fare questa settimana in preparazione per la prossima quando comincerete a compilare il vostro portfolio è raccogliere le vostre evidenze degli ultimi tre anni riguardarvi le aree di osservatorio formazione e la norma uni e cercare di capire quali sono le vostre competenze vostre di ciascuno di voi la norma uni è disponibile solo a pagamento ma in rete AIB ha reso disponibile una tabella sommaria di corrispondenze che trovate anche tra i materiali nella piccola biblioteca del corso per una prima riflessione può bastare ricordate alla fine di questo video di compilare il test su questa lezione ricordate che può essere compilato una volta sola quindi siate sicuri di farlo in un momento nel quale siete tranquilli tenete d'occhio le scadenze e a questo punto buon lavoro a questo punto Grazie.